Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove ci sono code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti per lavori tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno. Rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Spostandoci in A12, uscita chiusa per lavori a Colle Salvetti provenendo da Livorno. Infine per i treni, per l'investimento di una persona tra le stazioni di Livorno Centrale e Antignano, i regionali da e per Grosseto potranno subire ritardi fino a 120 minuti, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!